36 nazioni si sono date convegno a Torino per l'ottavo salone internazionale della tecnica. Il ministro del BO ha inaugurato la rassegna in cui 1500 espositori in una competizione che sola può assicurare il miglioramento qualitativo illustravano le novità tecniche di questi ultimi tempi. Sentore delle materie plastiche anche qui qualche novità ecco uno scappo in resina e fibra di vetro adatto per la prossima estate la sua particolare sezione con prora atlantica permette di affrontare anche il mare aperto per qualche ride a largo raggio con lo stesso materiale costruito un dinghi dalla concezione eminentemente sportiva che non necessita costose manutenzioni. Di padiglione in padiglione le realizzazioni della nostra industria dimostrano il progresso delle nuove concezioni tecniche concorrenza modernamente intesa sul piano europeo. L'Italia non deve essere l'ultima protagonista di questa nuova fase economica.